Luca Capobianco, questo è il settimo punto vendita a Todis del vostro gruppo, come stanno andando le cose? Diciamo che si dovrebbe vedere, abbiamo la fila alle casse che arriva fino in fondo al punto vendita, evidentemente abbiamo sentrato l'obiettivo, l'obiettivo era quello comunque di dare anche qui in questo punto di ostia un supermercato, di chiamarsi supermercato. Qualità e convenienza, questo è lo slogan ventennale ormai per Todis? È il principio fondamentale di questo insegna, nel senso che principalmente al cittadino, all'italiano, al nostro cliente dobbiamo dare la qualità, di conseguenza c'è comunque convenienza. Gianni Capobianco, la rete Todis si estende, il settimo punto vendita per voi? Sì, settimo punto vendita nel decimo municipio, noi facciamo parte di un'organizzazione ovviamente più grande che ha 245 punti vendita in tutta Italia e a Ostia nella parte Ponente mancava, perché siamo presenti a Ostia Levante, Infernetto, Casal Palocco, Acilia, Dragona e a Ostia Ponente mancava. Oggi abbiamo aperto questo nuovo punto vendita, devo dire molto bello, molto bello. Grande successo all'insegna del vostro slogan, buongiorno convenienza. Sì, buongiorno convenienza perché riassume in due parole tutta la nostra essenza, buongiorno perché cerchiamo di essere amichevoli con tutti i nostri clienti, oggi il servizio fa la differenza. Convenienza perché per noi è molto importante il rapporto qualità-prezzo più che il prezzo assoluto.